Buonasera a tutti, chi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. Bene, questa trasmissione praticamente la tratterò essenzialmente per il rito di sabato, cioè il rito che teniamo sabato presso il Bosco Sacro di Iesolo. Prima di fare la trasmissione però, vorrei fare alcune considerazioni relative alla prima trasmissione che è stata fatta. Allora, innanzitutto una cosa, a me spiace quando sento che delle persone muoiono, le persone ci lasciano, perché per quelli che restano è sempre un vuoto e chiaramente è un vuoto che dovranno colmare, dovranno trovare da colmare loro. Però, come sapete, io sono un pagano politeista e se un mio amico mi dovesse lasciare, io alzo il calice e brindo la sua salute. Perché un mio amico è una persona che è vissuta con passione, con intento, che è espresso se stessa e comunque ha la possibilità di continuare la vita nell'infinito dei mutamenti. Pertanto, io a quell'amico alzo il calice e gli faccio gli auguri. Chiaramente il vuoto che ogni persona ha dentro, ogni persona che ci resta, è chiaramente un vuoto, una mancanza delle persone che ci lasciano. D'altronde, man mano che va avanti l'età, ci troveremo sempre delle persone vicine che ci vengono a mancare, poi toccherà anche a noi, insomma. Cioè, anche noi poi lasceremo un vuoto per altre persone ancora. Cioè, questa è in sé la vita, cioè è il senso stesso della vita. Pertanto, ognuno chiaramente si pone davanti alle cose come meglio crede. Però, io come pagano poeteista, se un amico mi viene a mancare, alzo il calice e brindo la sua salute. Torno a ripetere. Buon, chiuso a questa parentesi, apriamo un'altra. Nella trasmissione di oggi, nella prima trasmissione, io praticamente ho trattato due argomenti, a parte le notizie di giornale, le notizie che sono uscite fuori sulla pederastia e sulla violenza dei cattolici rispetto alle persone indifese. Due argomenti essenziali. Uno, praticamente si trattava del Vangelo del figlio del prodigo, no? Cioè, un commento del Vangelo del figlio del prodigo. E l'altro, l'altro argomento, parlava continuamente di quello che è il concetto del rito, del mito, scusate, e la differenza fra l'individuo che vive all'interno del mito e l'individuo che vive nella logica, che vive nella filosofia. Ora, io sono convinto di questo. Io lo so che spesso, come tratto, il linguaggio che uso e il modo di trattare gli argomenti può essere più o meno complesso, anzi, è sicuramente complesso. Però, se siete stati attenti alla trasmissione, io sono convinto che quasi tutte le persone, nel bene o nel male, cioè, sia d'accordo, sia in contraddizione o in contrapposizione, hanno compreso il discorso che ho fatto sul figlio del prodigo. Magari qualche cattolico si sarà anche incazzato sulla questione. Magari qualcuno avrà, non so, se sarà aperto la Bibbia o per l'esercizio, magari qualcun altro avrà fatto altre considerazioni. Però tutti hanno afferrato comunque qualcosa in riferimento al figlio del prodigo. Ma vorrei sapere quante persone hanno afferrato qualcosa sul discorso, specialmente sulla seconda parte, non quella parentale, ma quella dell'uomo che vive nel mito, l'uomo è il tempo del mito e l'uomo è il tempo della filosofia, di quello che ho detto. Perché ho detto delle cose che sono rivoluzionarie e spaventose allo stesso tempo. Vi ricordo che fra le altre cose vi ho detto che il cervello dell'uomo che vive nel mito è diverso dal cervello dell'uomo che vive nella filosofia. Cioè, basta solo questa affermazione per rivoluzionare tutta la storia della filosofia, tutta la storia del pensiero occidentale. Cioè, non è una cosa così semplice e così lapalissiana. Cioè, un'affermazione del genere ha delle implicazioni che sono spaventose. Io credo che pochissime persone siano riuscite ad afferrare quello che in realtà ho detto. Però io non ci posso fare niente. Cioè, nel senso che io posso soltanto mettere i semi per costruire il futuro, ma questi semi io li metto nel terreno che trovo. Cioè, li metto nella situazione culturale e nella situazione degli ascoltatori che questa radio riesce ad incontrare. Pertanto, anche se io dico delle cose spaventose, delle cose che sono... Non so, vent'anni fa qualcuno sarebbe accaponato la pelle, insomma, sia di destra che di sinistra. Tanto per parlare a livello politico. Comunque, prendiamo quello che si trova, insomma. Però, rifletteteci un pochino, perché... Io, torno a ripetere, sono convinto che poche persone siano riuscite ad afferrare effettivamente il significato di quello che ho detto. In ogni caso, vi ricordo sempre che il discorso sul mito, basta scrivere il discorso sul mito, e lo trovate in internet e lo trovate tutto insieme, insomma. Tanto per essere chiari. Come trovate anche il discorso sul filo del prodigo. Lo trovate in internet e lo potete scaricare tranquillamente da internet. Va bene. Chiediamo qui la trasmissione e vi invito però a mantenere un po' di attenzione a quello che sto... a quello che dico, a quello che sto dicendo. Perché effettivamente, cioè, io metto anche i semi per costruire il futuro, però non dipende da me la costruzione del futuro, eh. Cioè, non dipende solo dai semi, in ogni caso. Allora, sabato 19 marzo ci ritroviamo tutti presso il Bosco Sacro di Jesolo, vi ricordo, in Via Cagamba, per celebrare il rito dell'equinozio di primavera. Il rito dell'equinozio di primavera è il rito della nascita. C'erano altri riti che si celebravano sempre nello stesso periodo e che avevano significati diversi. Essenzialmente, spesso erano riti di innamoramento, riti di accoppiamento nell'antica religione. Sono successe parecchie cose da allora. Prima di tutto, l'orrore cristiano è stato messo un po' alle spalle del muro. Ricordiamo fra tutti quel gigante, quell'eroe, quell'ercole della vita umana che fu William Reich e la sua rivoluzione sessuale. E ricordiamo che grazie a lui e grazie ad altre persone, Erika Young, per esempio, o Erika Jung, la libertà sessuale è diventata un patrimonio degli uomini. Oggi come oggi, tranquillamente la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale fanno delle sentenze relative alla libertà dell'uomo, la libertà della donna, la libertà di rapporto di coppia. Al punto tale che una festa come la festa dell'8 marzo è diventata solo una festa. Cioè, ci si dimentica perché è stata istituita quella festa. Chi l'ha istituita? Clara Zetkin, Rosa Lussemburg. Ormai sono nomi che nessuno ricorda neanche più. E quando qualcuno li ricorda, li ricorda soltanto per quello che lui va a indicare le cose peggiori. Ma ricordiamo che l'8 marzo fu istituito proprio da Clara Zetkin per ricordare delle donne che morirono bruciate vive in una fabbrica che venne chiusa dall'esterno dal proprietario per impedire loro di scioperare e morirono tutte bruciate vive. Ce lo siamo dimenticati questo? Che l'8 marzo significa questo? Significa la libertà dalla coercizione. In questo caso delle donne ma vale per tutti gli esseri. Se ne è dimenticato per esempio Massimo D'Alema quando ha esaltato il prete picchiatore pugliese. Si si dimentica. Si si dimentica di quanti eroi è costellata la nostra storia. E quando si pensa a quegli eroi anziché pensare ai regali che hanno fatto l'umanità si cerca di inquadrarli all'interno di un contesto per condannarli per dimenticarli per cercarli di confinarli nell'oblio. Ma la mimosa era l'unico albero fiorito che in quei giorni c'era vicino a un rogo che venne fatte di donne che volevano solo scioperare volevano un miglior tenore di vita. E quei fiori della mimosa vennero staccati e buttati e buttati sopra al rogo che provocò tutte quelle morti. Adesso è diventata una festa. Dopo di allora ci furono le lotte sociali ci fu le lotte contro l'orrore cristiano contro l'orrore cattolico ci furono la liberazione sessuale ci fu il 68 e adesso spesso le persone pensano a delle cose come se fossero gratuite come se ci fossero sempre state come se fosse stato un dono della chiesa quasi e naturalmente qualcuno cerca anche di spacciarglielo cioè sono una serie di imbecilli che dicono in giro vedi come si sta bene in occidente che c'è il cattolicesimo e come si sta male invece nei paesi musulmani dove c'è l'islam e vedi che è meglio il cattolicesimo e ci si dimentica che non è una questione di cattolicesimo ma è una questione di respiro della libertà degli uomini pertanto anche se ci fosse ci sono state molte feste e molti modi per festeggiare la primavera all'inizio della primavera in epoca antica noi dobbiamo farlo partendo da ciò che noi siamo e da ciò che noi andiamo ad affrontare per costruire il futuro perché noi siamo i costruttori del futuro attraverso le azioni che mettiamo in essere nel presente e attraverso il significato che diamo alle azioni che mettiamo in essere nel presente pertanto il rito dell'equinozio della primavera è un rito che ha un significato esoterico ed esoterico allo stesso tempo ha il significato di manifestare la vita perché la primavera è Persefone che esce alla luce è Persefone che lascia i mondi oscuri dell'Ade del Tartaro ma è qualcos'altro è la vita stessa che sgorga dal grembo e la primavera è l'equinozio della nascita è l'inizio della grande stagione della vita ed è questo che noi celebriamo ed è attraverso questo che noi chiamiamo gli dèi ma come chiamiamo gli dèi chiamiamo gli dèi attraverso il nostro intento attraverso la manifestazione di noi stessi ecco diciamo quel rito suoniamo i tamburi perché io sono nato io ho un progetto io devo portare a casa un risultato io devo affrontare il futuro quando si dice io devo riuscire a fare questa o quella cosa che è dentro di me è una nascita è in quel momento che io sboccio su un mondo e dico devo riuscire a fare quella cosa allora mi organizzo mi attrezzo per raggiungere il mio obiettivo ebbene quella è una nascita come fu una nascita in grande stile quando uscii dalla vagina di mia madre come è la nascita di una gallina da un uovo come è la nascita di un albero da un seme ma ogni giorno progettando me stesso e progettando la vita io progetto la nascita ed è questo che vogliamo celebrare con la primavera allora vado a leggere il rito di presentazione della primavera non vorrei che qualcuno equivocasse sul senso magico dei rituali i riti che organizziamo sono delle vere e proprie azioni magiche il cui scopo è da un lato finalizzare l'attenzione e l'intento dei partecipanti e dall'altro chiamare le forze del mondo la loro attenzione affinché allineino i loro intenti ai nostri il rito è una manifestazione collettiva in cui i partecipanti fondono la propria attenzione e armonizzano i loro intenti che in questo caso è la partecipazione alla costruzione della vita alla costruzione del futuro all'interno di un mondo che alimenta i propri intenti e che pertanto manifesta attenzione a quanto può favorire i propri intenti posso ritenere che non tutte le persone che partecipano al rito abbiano familiarità con gli dei del mondo e con gli dei che noi citiamo negli inni che abbiamo scelto questa è l'ultima cosa che ci interessa tutte le persone che partecipano alla nostra attività hanno passioni tensioni desideri poteri di rappresentazione di se stesse nella vita in altre parole manifestano nella loro esistenza le qualità e le azioni nelle quali noi vediamo l'espressione degli dei del mondo e loro stesse quando pensano che in quell'azione hanno manifestato un aspetto del loro divino che trova riscontro nel divino oggettivo del mondo sono pervase da una forza che le spinge ad andare oltre ad osare ad affrontare ciò che prima incuteva loro paura o timore prendiamo il discorso degli inni che abbiamo arbitrariamente che no degli inni che arbitrariamente io ho scelto per il rito l'inno a Zeus è indicato nell'inno a Zeus è indicata l'attività di Rea per far nascere Zeus e proteggerlo dall'oblio del tempo dall'essere mangiato da Crono come nel manifestare questo intento il mondo e come nel manifestare questo intento il mondo accorre il mondo nelle sembianze delle ninfe dell'ape della capra della terra che si sgrava delle acque i curetti i colibanti c'è in quest'inno l'essere femminile l'essere umano femminile che manifesta la vita e ne protegge la costruzione del futuro non è forse un'azione che dovremmo sempre tenere presente nel nostro essere persone religiose pagane politeiste e questo è l'inno a Zeus di Callimaco nella prima parte nell'inno a Pam ci sono vari aspetti del comportamento di Hermes che dobbiamo sottolineare come Hermes corteggia Driope come protegge il figlio quando la madre fuce e come Driope che come simbologia del mortale si ferma alla forma apparente abbia il diritto di fuggire mentre Hermes non vede la forma del figlio ma la qualità del divino che il figlio esprime e accorre veloce non sono forse azioni che dovremmo sempre tenere presenti come pagani politeisti nell'inno ad Atena c'è la nascita della Dea col giavellotto in mano che minaccia Zeus stesso dopo essere uscita dalla sua testa non solo l'essenza stessa dell'Olimpo ma la ragione fondamentale della sua nascita una minaccia che non è finalizzata alla soprafazione ma alla riaffermazione di se stessi non è forse un'azione che dovremmo sempre tenere presenti come pagani politeisti nell'uscita dell'anima verso la luce del giorno viene ribadito il principio in forma egiziana dell'inno numerico ad Atena solo che qui si tratta di un individuo che pretende di essere riconosciuto come Dio e continuare nella propria sequenza dei mutamenti e rivendica davanti all'infinito quanto egli ha manifestato quanto egli ha rappresentato quanto egli ha meritato nel corso della sua esistenza si tratta della qualità del giavellotto di Atena il giavellotto con cui Atena minaccia Zeus altro non è che la somma di tutti gli sforzi strategici che gli esseri figli di Hera hanno fatto nella loro esistenza ed è con questo patrimonio di potere che un essere umano ha costruito nel corso della sua esistenza il giavellotto con cui minacciare gli dèi o la determinazione con cui si presenta l'essere umano il cui corpo fisico muore e il corpo luminoso pretende di essere accolto nel nuovo mondo non sono forse un insieme di principi che devono sempre tenere presenti come pagani puliteisti parliamo del carmen saliare e quanto ci è rimasto degli antichi di Roma e quando dico degli antichi di Roma in questo caso mi riferisco agli antichi tanto antichi che già nel quinto secolo avanti Cristo non si conosceva il significato del carmen che forse un bambino che nasce e conosce il senso dell'esistenza della sua fase fetale che forse il nuovo inteso come relazione degli uomini col mondo non è generato dal vecchio che precedete il presente come una trasformazione continua che senso potremmo dare alla frase dell'uscita dell'anima alla luce del giorno attraverso le mie numerose nascite se non che il presente è generato da quanto lo ha preceduto e ciò che sta nascendo nei riti che noi facciamo non è forse il nuovo è il nuovo che nasce onora e rende omaggio a quanto lo ha generato ma è pronto a puntare addosso il suo giavellotto se il vecchio tenta di imporsi anziché camminargli a fianco ne gioì il saggio Zeus e noi onoriamo ciò che fu ed agiamo nel presente per costruire ciò che sarà non sono forse dei principi che dobbiamo sempre tenere presenti come pagani politeisti l'inno al serpente è una visione cosmologica della vita significa molte cose ma lascio alle persone cercarne il significato che vogliono una sola cosa mi interessa in questo momento sottolineato dal punto di vista della stragoneria vi ricordo che l'inno al serpente l'ho scritto io quando un popolo è in pericolo e sta per essere annientato da preponderanti forze nemiche al suo interno nascono degli eroi chi sono gli eroi? tutti coloro che mettono in atto delle azioni quelli che fuggono quelli che disertano quelli che restano quelli che si fanno ammazzare per resistere quelli che fanno ammazzare altri per resistere o per sopravvivere vedo già nasi che storcono e bocche schifate io parlo di stragoneria che si sviluppa nell'arco di molte generazioni chi è fuggito ha sottratto se stesso reputando che la situazione attuale non era salvabile quelli che disertano hanno salvaguardato la possibilità di costruire la vita nonostante la presenza del nemico quelli che restano hanno scelto di vivere nonostante tutto quelli che si fanno ammazzare hanno deciso che forse c'era una possibilità quelli che hanno fatto ammazzare gli altri ritenevano che fosse l'unico modo per salvare il salvabile nonostante le vostre bocche schifate erano tutti eroi dopo una generazione i loro figli ovunque vivono sono il fiore della vita questo è il serpente è la vita che si fa strada nelle infinite condizioni oggettive in cui si presenta la vita intesa come germinazione e trasformazione del luminoso che noi chiamiamo dei è la nascita e la vita che si sviluppa sempre e nonostante tutto non sono forse dei principi che dobbiamo sempre tenere presente come pagani politeisti ed ora parliamo dell'organizzazione materiale e rappresentativa del rito l'accensione del fuoco rappresenta la ricerca della conoscenza l'accensione delle consapevolezze delle persone della necessità di manifestare se stesse il fuoco si manifesta vive arde si alimenta e si spegne forse che la nostra esistenza è diversa o forse non dovremmo essere consapevoli che prima o poi ci spegneremo il girare attorno al fuoco è un antichissimo rituale che al di là della simbologia ha la peculiarità di concentrare un vortice di energia dei partecipanti attraverso la loro attenzione e il loro intento il fuoco è un'entità consapevole capace di rendere uniti gli intenti di chi vi gira attorno parliamo del rumore i suoni è un modo per variare l'oggettività nella quale siamo immersi e chiamare gli enti del mondo a partecipare a quanto facciamo non si tratta del solo suono ma del fatto che il suono porta a noi stessi la nostra attenzione e il nostro intento nel rito dell'equinozio di primavera c'è un intento ulteriore fermare il tempo fermare il tempo è un concetto delle antiche religioni crono che viene fermato dai cureti affinché non diventi consapevole che sta per nascere il figlio che lo detronizzerà fermare le trasformazioni degli enti del mondo affinché gli enti del mondo siano consapevoli che noi esistiamo manifestando i nostri intenti mentre nel sostizio d'estate il passaggio in mezzo ai fuochi simbolicia i partecipanti al rito sono passati tutti spesso molte volte fra i due fuochi per simbolizzare la fusione fra il fuoco che arde dentro di loro e il fuoco della vita che arde dentro ogni essere nell'equinozio di primavera simbolizza la nascita degli individui la nuova nascita non è intesa come nascita ma come trasformazione soggettiva dopo ogni decisione soggettiva presa in relazione al mondo nel quale stiamo vivendo è la primavera che decide di nascere è Persephone che decide di uscire dall'ale è noi stessi che sgorga dopo che abbiamo deciso questo o quella cosa parliamo dei cerchi di candele che costruiamo esternamente al rito quando mai nella disperazione della vita non esiste almeno un lume che ci indica da dove uscire quando mai non avremo un perché che ci indica l'intento per cui stringere denti e pugni e noi avremo sufficiente potere o sufficiente volontà per afferrare l'opportunità che si presenta le candele sono dunque le opportunità che il mondo ci offre le opportunità che gli dei manifestano nei nostri confronti quale padre o quale madre dirà al suo figlio fa del tuo meglio oggi attrezzati fornisci gli strumenti al fine di afferrare al meglio le opportunità che nel futuro si presentano lavora oggi il rito collettivo si conclude con il cerchio di ringraziamento nei confronti di chiunque ha partecipato capitalizzando con gli altri la propria attenzione la propria energia il proprio intento ringraziamo noi stessi le idee del mondo che si sono compiaciuti di assistere e di fondere con noi i loro intenti quando il cerchio di ringraziamento è concluso l'energia dei partecipanti rimane sul luogo a disposizione di chiunque per questo motivo ogni persona che ha partecipato il rito ha il diritto di esprimere quanto egli intende e quanto egli desidera per portare a termine i suoi progetti così può mettere in atto i propri rituali personali al fine di raggiungere i propri intenti può usare l'energia e quella attenzione per alimentare le proprie azioni e dar sbocco ai suoi desideri e alle sue tensioni la abbiamo chiamato gli dei per i grandi progetti ma i grandi progetti si alimentano attraverso i progetti individuali e anche questi noi vogliamo che vadano a buon fine in fondo a volte è sufficiente che le forze del mondo mettano un atomo della loro energia nella nostra attenzione e noi siamo in grado di afferrare la candela che ci serviva nel momento in cui ci serve un atomo in cambio di un progetto d'esistenza che alimenti il progetto che lo metti in atto è il mondo in cui il soggetto vive un ottimo scambio sia per dei uomini che per dei forze del mondo nessuna supplica ma reciproco mutuo scambio questo è il senso del rito delle equinozze del primavera sia gloria sia gloria agli esseri umani che vi partecipano sia onore agli dèi che vi assistono alimentandolo della loro energia bene questo è il motivo per cui noi il 19 marzo terremo il rito dell'equinozio del primavera presso il bosco sacro di Esolo e tanto per ricordare possiamo anche vederci un attimino gli inni che terremo per esempio l'inno a Pan è l'inno numerico a Pan e dice Musa cantami il caro figlio di Hermes Bicorne dai piedi di capra amante del frastuono che vaga per le valli boscose in compagnia delle ninfe danzatrici e se amano percorre le cime delle rupi scoscese invocando Pan il dio dei pascoli dei capelli lucenti e orsuto che frequenta tutte le alture nevose e le cime dei monti e i sentieri pietrosi si aggira in su e in giù per le ficchiette macchie ora è attratto dall'acqua dei tranquilli ruscelli ora si arrampica su rocce inaccessibili salendo sulla cima più alta per sorvegliare le greggi spesso corre per le grandi montagne biancastre spesso attraverso le valli facendo strage di selvaggine grazie alla vista acutissima solo al tramonto tornando da caccia intorno a sua zampogna una dolce melodia non lo vince nel campo l'uccello che a primavera effonde un lamento con voce di miele tra i fiori e le foglie allora si uniscono al suo canto le ninfe montane dalla limpida voce danzando con passi rapidi presso la fonte profonda e l'ecore suona e l'ecore suona dalla vita del monte il dio ora danza in tondo ora entra nel mezzo con rapidi passi porta sul dolso una fulva a pelle di lince e si esalta nel cuore a quel canto ritmato sul tenero prato dove il croco e il giacinto odoroso si mescolano all'erba fiorendo in gran copia cantano gli dei beati e il vasto limpo per esempio più di ogni altro esaltano il rapido Hermes dicendo com'è messaggero veloce per tutti gli dei e come arrivò nell'arcadia ricca di fonti madre di greggi dove c'è un tempio per lui il signore Cilenio lì pur essendo un dio pascolava le greggi le nose di un mortale infatti ardeva in lui il desiderio struggente di unirsi in amore con la ricciuta figlia di Driope ottenne le nozze fiorenti ed essa nel palazzo partoria d'Hermes un figlio già subito strano a vedersi i bicorne dai piedi di capra rumoroso del dolce sorriso la madre balzò in piedi e fuggì lasciando il bambino ebbe paura infatti quando vide il viso ferino e barbuto ma il rapido Hermes lo prese subito in braccio e l'accolse la gioia traboccava dal cuore del dio salì in fretta alle sedi degli immortali con il dio volto in una folta pelliccia di lepre montana si sedette vicino a Zeo e agli altri mortali e mostrò suo figlio tutti gli dei si rallegrarono in cuore e più di tutti il delirante Dioniso lo chiamarono Pan perché tutti aveva rallegrato il cuore così ti saluto Signore e ti placo col mio canto e io canterò te e un'altra canzone la canzone della mia vita e questa è la canzone della nascita di Pan poi c'è l'uscita dell'anima verso la luce del giorno ed è un canto che fa parte del libro dei morti egiziano cioè praticamente si chiama libro dei morti perché fu rinvenuto all'interno delle tombe all'interno delle fasce ed è un'invocazione e questa in particolare è l'invocazione di colui che si presenta è colui che si presenta davanti al peso del cuore Ausiride Horus e rivendica di essere un Dio e dice io sono l'oggi io sono l'ieri io sono il domani attraverso le mie numerose nascite io sussisto giovane e vigoroso io sono l'anima divina e misteriosa che in altri tempi creò gli dei e la cui celata essenza nutre la divinità del Duat della mente e del cielo io sono il governatore d'Oriente signora dei due volti divini il mio splendore illumina tutti gli esseri risorti i quali mentre compiono il reame della morte successive trasformazioni penosamente cercano il loro cammino brancolando nella regione delle tenebre o voi spirigi la testa di sparviero degli impassibili occhi voi che dimorate nei luoghi altissimi ascoltate attentamente le parole magiche scandite da coloro che seguono il mio feretro procedendo verso la sua nascosta dimora e voi che precedete seguite Ra durante il suo cammino verso il punto culminante del cielo mentre che lo stesso Ra signore del santuario rito nella sua barca fa apparire come il dardeggiare dei suoi raggi frutti della terra voi tutte sappiate in verità io sono Ra Ra all'opposto dunque me stesso sono io l'artefice che ha cesellato in cristallo alla volta il firmamento di Ptà ora il tuo spirito esulta ed il tuo cuore contento quando tu contempli la meravigliosa armonia di questo giorno quando tu penetri in questa città celeste di Chemennu ed in seguito l'abbandoni per la porta dell'Esta i primi generati degli dei che ti hanno preceduto vengono ad incontrarti e ti accolgono con acclamazioni festose ora fa che per me si presentino a me ne piacevole vie percorse dai tuoi raggi solari per me allargisci i tuoi luminosi sentieri nel giorno in cui mi involo dalla terra verso le celesti regioni compenetrami dalla tua luce o ba misterioso eccomi giunto a te dinanzi o Dio la cui voce cupamente rimbomba quale possente tuono nelle vaste regioni dei morti i peccati dei miei progenitori fa che non mi siano imputati liberami da questo spirito falso e malefico del quale i due occhi appaiono chiusi verso la serie durante la notte massacri mortali in verità io trabocco di possibilità senza limiti è il mio nome il grande tenebroso ciò che in me è celato conformemente al ritmo del tempo io lo manifesto attraverso il mutamento dei miei cangianti forme ecco il Dio grande di infinito la cui voce misteriosa risveglia la divinità celata nel mio cuore ecco che questo Dio levando il suo possente braccio dice vieni valica l'abisso e questo è l'inizio diciamo sia la prima parte di questo inno poi un altro inno invece che avrà cantato è l'inno generico ad Atena comincerò a cantare palla di Atena la gloriosa Dea dagli occhi splendenti ingegnosa dal cuore inflessibile vergine casta intrebita signora dell'acropoli tritogenia il seggio Zeus la generò da solo dal suo capo venerabile rivestita già delle armi di guerra dorate e lucenti tutti gli immortali si stupirono a quella vista e il essa balzò fuori rapidamente dai capi mortali girando un giavellotto acuto davanti a Zio Zeus e Gioco il vasto Olimpo sussoltò cupamente sotto l'urto della Dea degli occhi splendenti la terra emise un grido terribile il mare si sconvolse gonfiandosi con frutti spumati poi di improvviso le onde si fermarono il luminoso figlio di Perione arrestò lungamente i caveroci cavalli fino a quando la Vergine a Palla di Atena ebbe tolto dalle spalle i mortali le armi divine ne gioì il saggio Zeus così ti saluto figlia di Zeus e gioco io canterò te e anche un'altra canzone è la canzone della mia vita per i carmini salaria ve li dico solo in italiano chi li leggerà in latino sai latino io non lo so ci sono rimasti tre frammenti dei carmini salaria tre frammenti che dicono cantate il padre degli dei supplicate il dio degli dei o sole sorgi al mondo alla porta del cielo o tu che apri sei il gentile custode delle porte sei il buono Giano sei il benefico generatore di più potenti signori quando tuoni signori della luce davanti a te tremano quanti dei nel cielo chiudirono a tuonare e questo sono i versi che ci sono rimasti del cammino e saliare un altro elemento della nascita pratica il cammino e saliare sarebbe ciò che ha generato il paganesimo di Roma Antica per cui ci sono rimasti pochissimi pochissimi pezzi pochissime testimonianze di quello che fu gli antichi canti gli antichi inni della religione romana e uno dei più antichi è appunto il cammino e saliare insieme ai pezzi del cammino arvales però si tratta di frammenti molto piccoli e di pezzi infimi che hanno dato adito a molti dibattiti perché ancora non una traduzione esatta non è ancora stata fatta la traduzione che uso io è una traduzione di tipo religioso anche se letteralmente corretta questo invece è un po' più conosciuto perché è un po' più tardo fa parte dell'ellenismo classico dell'epoca classica della Grecia è scritto da un grande poeta un grande poeta greco che viveva ad Alessandria perché eravamo già la Grecia aveva già preso Alessandria con Alessandro d'Egitto appunto che poi ha fondato anche Alessandria fra altre cose il poeta è nato a Cirene ed è Callimaco Callimaco era uno dei tanti maestri che insegnavano per strada perché allora si sapeva quasi tutti leggere e scrivere a differenza di quando è arrivato il cristianesimo e Callimaco però come poeta fa una grossa carriera e dall'insegnamento di strada passa a insegnare fino ad avere l'accesso al palazzo praticamente e scrive dei bellissimi inni io ne ho letti alcuni e sono veramente belli questa prima parte dell'inno è l'inno a Zeus tratta della nascita di Zeus e tratta di Rea che ha il problema di dover partorire Zeus in terra parrasia ti generò Rea dove più fitto il monte era coperto di macchia perciò quel luogo è sacro e bisognoso di Lizia nessun animale né alcuna donna vi accede ma lo chiamarono gli apidanei antico giaciglio del parto di Rea là quando la madre dal grembo possente ti ebbe deposto subito cercò un frutto d'acqua perché del parto la sozzura nel tasse lavasse il tuo corpo ma ancora non scorreva il possente ladone nelle rimanto il più lucente dei fiumi e ancora priva d'acqua era tutta la zenia ma era destino che ben riga l'acqua fosse detta poi allora quando Rea sciolte la cinghia molte antiche querce sull'umido lo iaone crescevano e molti carri il melante portava e sul carione purse l'acqua vivaci molti serpenti ponevano tane e a piedi il viandante sul crati e su metope ciottolosa andava setato ma molta acqua era sotto i suoi piedi allora presa d'angoscia parlò Rea Sovrana terra cara sgravati anche tu il tuo travaglio il travaglio tuo è lieve disse la Dea e tenendo in alto il grande avambraccio col piccolo scetro il monte visse aprivo raggine ampie e scatturì un grande flutto lì rese lucente il tuo corpo sovrano e in fascia a volte ti affidò a Nede che ti portasse nell'androcretese e tu crescessi nascosto a Nede la più veneranda tra le ninife che ha assistito dal parto la prima per nascita dopo stige fila e filira e non con vana ricompensa le ripagò il favore alla Dea ma il frutto col nome Nede chiamò questo non lungi dal borgo dei cauconi detto l'epreo possenti si unisce a Nereo e da essa l'acqua più antica avevano i figli dell'orsa l'iconia quando Tene lasciò portandoti a Cnosso padre Zeus la ninfa era Tene nei pressi di Cnosso al loro Dio l'ombelico ti cade e perciò quella piana di ombelica da allora dando il nome ai Cidoni Zeus ti prese in braccio dei corribanti compagni le meglie di dite e ti collò ad Arastea in un augusto canestro e tu suggesti la mamella feconda della capra maltea e ti ci basti insieme di dolce miele perché subito si misero al lavoro l'appe panacride sui monti dell'ida che sono detti panacra e intorno a te danzano vivaci i cureti l'aprilis battendo le armi perché le orecchie di crono e il rimbombo te lo scudodissero e no il suono dei tuoi vagiti e questo è l'inno a Zeus di Callimaco prima parte naturalmente dedicato alla nascita di Zeus questi sono gli inni che canteremo durante il rito dopo l'apertura del rito l'apertura del rito che sarà fatta chiamando i quattro canti del mondo praticamente i quattro punti cardinali e verranno chiamati i quattro punti cardinali con dei frammenti con dei frammenti degli oracoli caldaici e sono quattro evocazioni prese da quattro frammenti e ogni evocazione è dedicata a un a un punto cardinale l'evocazione del nord è operante elargisce il fuoco che dona vita e colma il grembo fecondo di Ecate sui vincoli riversa forza di fuoco vivificante potentissimo l'evocazione all'est è di là scaturisce la materia cangiante di là precipitando il fulmine estenue il fiore del suo fuoco gettandosi nelle cavità dei monti perché è di là che tutte le cose cominciano a inclinare i raggi verso il basso stupendi l'evocazione del sud è per vincolo di amore stupendo che scaturì per primo del nus vestendo di fuoco il fuoco suo unificante per mescolare i caratteri sorcivi e fondendovi il fiore del suo fuoco e l'invocazione all'ovest è di fuoco d'acqua e terra e di etere che tutto nutre sono quattro frammenti degli oracoli caldaici che vengono praticamente ad aprire il rito e l'altro inno l'ultimo inno è quello che praticamente ho scritto io ed è stato scritto sulla traccia di un inno dei naseni i naseni vi ricordo che erano un gruppo gnostico fra virgolette abbastanza strano però sembra che sia di derivazione legato molto comunque a quello che è il Vangelo di Tommaso Didimo questi erano personaggi abbastanza strani che lavoravano molto di magia e avevano ancora alcune delle antiche tradizioni delle religioni misteriche e le stavano integrando praticamente col nuovo avvento del cristianesimo l'inno dei naseni è un inno piuttosto tardo però mi è servito la traccia per scrivere l'inno al serpente l'inno al serpente Gaia generatrice presenza dell'universo caos primigenio essenza che accoglie la volontà manifesta nel suo agire principio di ogni cosa travagliata ogni germinazione è dominata dalla trasformazione dominio della luce volontà di espansione volontà che piange che si rallegra che ride volontà che si nutre di Gaia volontà che si trasforma rinascendo all'infinito felice ed infelice attraverso le condizioni del mondo avendo raggiunto la mia volontà all'anima di Gaia attraverserò tutti gli uni dell'esistenza vagando nel labirinto dello spazio mostrerò le figure degli dei chiamando ogni trasformazione della vita conoscenza e questo inno praticamente è l'inno al serpente che ricordo che nelle antiche religioni il serpente rappresentava la vita ed è la vita che nasce e che diviene attraverso tutti gli infiniti ostacoli che vengono posti davanti bene questo praticamente è l'essenza del rito che teniamo sabato presso il bosco sacro di Jesolo il rito praticamente avrà questa struttura c'era la scelta degli evocatori degli inni cioè dei lettori degli inni ci sarà l'accensione del cerchio di candeline tutto attorno al luogo dove si terrà il rito ci sarà l'accensione del fuoco ci sarà il primo girotondo attorno al fuoco ci sarà con un sistema di bacchetto che brucia il primo bacchetto che si spegne fra i lettori degli inni comincerà a leggere degli inni si verrà tutto aperto dalle evocazioni i quattro canti del mondo la cerimonia di accensione anche delle fiaccole che verranno poste nei punti dei quattro punti cardinali e poi dopo questo passaggio dopo questo passaggio attorno al fuoco dopo la lettura degli inni ci sarà la chiusura del cerchio quando il cerchio sarà chiuso sarà diviso praticamente il fuoco e ci sarà verrà rialimentato il fuoco ci sarà il gioco del passaggio attorno al fuoco che praticamente in questo caso rappresenta la vita rappresenta la nascita rappresenta le nuove decisioni delle persone tutto questo è praticamente il rito che si terrà sabato ed è un rito magico perché ha la capacità di concentrare le energie delle persone che vi partecipano le energie degli soggetti del mondo degli esseri del mondo ha la capacità di trasformare le persone che vi partecipano di convogliare le energie di convogliare gli intenti e di convogliare l'attenzione degli astanti io comincerò praticamente nel primo pomeriggio a preparare tutto ciò quello che c'è da preparare le persone prima arrivano o meglio è mi danno una mano per fare quello che c'è da fare e man mano che le persone arrivano insomma dare una mano per preparare il tutto non serve grandi cose di preparazione è quasi tutto pronto e dopo il rito naturalmente ci troviamo tutti in pizzeria a mangiarsi la pizza questo è quanto telefonate 049 600 600 e 049 700 838 sono i numeri di radiogramma questo è il rito del equinozio di primavera ed è la celebrazione della nascita in tutte le sue forme io adesso vi prendo qualche notizia giornalistica vediamo un attimo pronto deve partecipare al rito come si fa ci si mette in contatto sono in contatto io adesso si tu sei in contatto adesso ma vogliamo conoscere persone prima che arrivino al rito ho capito come si fa allora vari dibattiti oppure vieni prima ti presenti il primo pomeriggio a Iesolo vi ricordo che l'indirizzo è via Cagamba settima traversa praticamente credo che sia la quarta casa che trovate sulla sinistra ok perfetto comunque ci troverai tutti là insomma ci vedi con le macchine insomma non è che ci sia poi a mano a mano che passa gli orari insomma arriva gente per cui vedi un po' insomma perfetto si ho capito bisogna capire se è anche una persona adatta a questo lì si non è che la persona sia adatta o non sia adatta tutte le persone sono adatte dipende dalla sua serietà capisci tutto là insomma ok allora settima traversa via Cagamba esatto perfetto grazie arrivederci ricordo che l'indirizzo del Bosco Sacro è su internet e dappertutto e l'indirizzo del Bosco Sacro è comunicato a tutte le autorità sia il Presidente della Regione che il Presidente della Provincia al Prefetto al Questore ai Carabinieri e alla Polizia per cui il Bosco Sacro di Jesolo è un luogo ufficiale dedicato ai riti e dedicato a questo tipo di ritualità ed è riconosciuto come tale da tutte le autorità civili per cui non è una questione di segreto di appuntamento segreto è praticamente là e tutti lo sanno anzi sono delle persone che sono venute al rito e non sapevano non sapevano come trovarci hanno chiesto vieni Stefano tranquillo hanno chiesto alle persone per strada dove è il Bosco Sacro e le persone glielo hanno indicato cioè non c'è assolutamente nessun pronto ciao Marco scusa non so di ascoltare la radio vuoi so che salutarti e spero che salutati anche a tutta la gente che viene a rito sabo ok stami d'oro ciao che te auguri ciao 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 sì in effetti è una cosa abbastanza abbastanza diciamo così interessante in effetti tutto Jesolo tutto Jesolo ma anche tutta la zona sa dove è il Bosco Sacro per cui non esistono assolutamente segreti e tutti quanti sanno che il 19 il 19 marzo verrà tenuto il rito sull'equinozio del primavera per cui tutti lo sanno però non si deve sapere però l'organizzazione mafiosa dei cattolici che nessuno sappia che i pagani tengono i riti però vi assicuro che lo sanno tutti non solo perché lo abbiamo detto per radio non solo perché l'abbiamo messo in internet non solo perché l'abbiamo messo sulle bacchettate bacchetti ufficiali dei più grossi siti diciamo così del paganesimo che ci sia per cui è una cosa notoria tutti sanno che il 19 marzo i pagani si trovano a Jesolo in quel posto per fare il rito dell'equinozio di primavera per cui non c'è assolutamente problemi va bene vediamo un attimo due notiziole prima di chiudere vediamo un attimino perché non è che ce ne siano state poche un'altra cosetta ancora ricordo ricordo che il 25 marzo invece in venerdì c'è il amarostica la cena del musso cioè venerdì 25 marzo terremo amarostica invece la cena del musso 25 marzo credo che per i cristiani sia una roba tipo non mangiare carne una roba di questo genere torna Darwin ma la scuola perde pezzi oh hanno deciso di riammettere Darwin a scuola cioè che la puttanata infame che è la genesi della Bibbia volevano sostituire questa porcheria con la teoria dell'evoluzione di Darwin veramente una cosa che ha fatto ridere anche i polli ma altrimenti ultimamente siamo abbastanza abituati a farci ridare le spalle dall'estero ma ah qui c'è anche uno sciocco un agricoltore vicentino vittima di raggiri di di una maga siamo a perdere il nome è un articolo del gazzettino del 26 febbraio 2004 e si è rivolto ai ai carabinieri perché questa maga gli avrebbe sfilato 17 mila euro ora se questo non è un imbecille ditemi voi che cos'è sapete quanto ci metto io per guadagnare 17 mila euro ci metto più di un anno e mezzo di lavoro in fonderia con la turnistica lavoro di notte domani mattina devo lanciarmi ai tre lo so e questo qua si è fatto un anno e mezzo ci metto e questo qua si è fatto sfilare 17 mila euro per delle cazzate c'è solo da dargli dell'imbecille non trovo nessun altro termine mi spiace non so certo se il voce di carabinieri la maga l'ha truffato però io sinceramente se vuoi carabinieri ne ha risato in faccia gliela farei è come chiedere un miracolo a padre Pio stessa roba sono imbecille può fare una roba di questo genere allora vabbè andiamo avanti cosa abbiamo la Cassazione bacchetta i VIP dicono troppe parolacce sì e anche a sproposito almeno forse all'interno dei discorsi che fanno cosa abbiamo ancora qui amore saffigo per la moglie colpa doppia per la donna e questa è una cosa che la corte è una sentenza della corte di Cassazione che veniva fuori la sua repubblica del 3 marzo 2005 beh è una cosa che dovrà essere messa a posto secondo me è iniziato un processo di modifica di quello che è la morale staremo a vedere USA marcia indietro all'ONU sull'aborto ricordo che gli Stati Uniti furono uno dei paesi più antiabortisti che c'erano e stanno cominciando a dire che forse hanno fatto qualche cacciata ma di solito tornare indietro le cacciate che si fanno ci vuole un certo tempo bene allora io chiudo qui la trasmissione di magia stragoneria e paganesimo la chiudo qui e vi do appuntamento per sabato presso il bosco sacro di Iesolo con il rito dell'equinozio del primavera il rito chiaramente è fatto per i pagani cioè è un rito che appartiene a noi come pagani politeisti è chiaro che io voglio che le persone vengano a sapere cosa noi facciamo e perché lo facciamo perché voglio che le idee corrino però il rito è serio non è un gioco è un rito religioso che ha delle finalità religiose portanto non è che non si ammettono le altre persone cioè si ammettono tutte le persone che ci sono vicine chiaramente se le persone si fanno vivere prima sappiamo che hanno un certo interesse per quello che stiamo facendo e diciamo così fra virgolette siamo più tranquilli se le persone arrivano nell'ultimo momento non sappiamo né perché né perci che ci sono perché tanto guardate che ai nostri riti non troverete né la vergine da sacrificare non trovate né sesso da fare e non trovate niente di tutto questo per cui mettetevela via cioè ognuno si arrangi come diceva Totò per cui non c'è nulla di tutto questo anche perché sono ben noti i nostri riti in internet oltretutto trovo anche le fotografie va bene io vi do appuntamento allora per giovedì prossimo con la trasmissione di Astragonaria e Paganesimo e vi do appuntamento per sabato verso Bosco Sacro di Ieso a tutti i pagani che ci sono in ascolto ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo